eccoci qui in questo nuovo video di fifa 20 e oggi si giocherà bologna crutuolo ti aveva partito anche se abbiamo... Soriano Messias ma io devo il bianco sono il bianco vabbè si ma come? attenzione ma che dici? tu mi chiasmo e così hai perso il piano e così per polli e così per palazio oh fatemi passare questi qua mi fanno passare può crossare ma no palazio palazio la super mega rodrigo palazio ragazzi che gol del bologna papà ha segnato palazio non sai chi è palazio? quello dell'inter lo dite? ecco lì il gol di palazio super giocatore dell'inter e il gol in carriera ha visto la palla come strana? papà ha segnato guarda rodrigo palazio è un gol lazzo incredibile tutto il cross tutto l'assist assist giocatore l'alto destro il video cazzo oh 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 come va questo scena? oh oh più o meno no attenzione è così per palazio oh scusa non fa niente non fa niente la vipende palazio ma andare palazio palazio vai vai cross bello a volo stai stai a volo mi devi aspettare e vabbè io stavo di qua è questo scemo qua è scemo esci dall'aria il cordax il portiere si ingrippa un e così è perso il piano voglio fare un palonetto e vabbè ingolla la maradona il portiere il portiere il portiere è così per scooter vai dai scatta è tua bomba bomba tira bomba la morca a te oh 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 vai passa sansone facciamo il cross faccio il cross ma tu oh ma chi lì va aia ehi come l'ho tirata io col cross ma io eh eh peccato lo deve segnare Bologna eh può sfortunare, molto sfortunato, non può sfortunare è approvato, un gol, un super mega gol di Rodrigo Palazzo e va per l'intruttore, messiasi ecco lo scemo, guarda l'ha scevolato, sbagliato che cosa? bello no, che cosa di testa stai no, guarda questa mazzotta, vena lì bello siiii collo, pareggio ecco la scelta caratteristica di Simi ha pareggiato il crotone ragazzi, il crotone va a prendere punti a Bologna grande, sono merito Simi e fa Simi la storia eccolo gli Simi Simi vai bene lì passa 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 Bellani no, bamba, bamba, bamba bello visto di nuovo Simi è forte nei tipi Simi è forte nei tipi Simi no, fai no, ti ha fermato il joystick e te lo giuro fai poi la puntiva la maverona quello comunque gesto tecnico dell'attaccante conclusione che meritava miglior software no no finito beh, 1 a 1 eh, purtroppo bello no no dovevi crossare e poi arriva in testa eh, ma stavamo 3 contro 2 stai che crossavo 3 contro 2 sì allora, bello ma solo in parità bene finisce in parità 1 a 1 ciao 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 ciao